... ... ... ... No, 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 no. E no? Le rodelle in valgo non si possono fare, eh? E se l'albito lascia scuare? L'albito lascia scuare perché sono tutti uguali. Comunque, attenzione che adesso ti purgo, eh! Gol! Sono finite le palline e sono tutte nella porta tua. Vai a prendere il getto. Ci sono finite il getto. Vai a prenderli. Ciao. Mi dai un altro gettono, per favore? Già finito? Ma non vi conviene prenderli tutti insieme? Eh no, perché se li prendo tutti insieme, come faccio a tornare a parlare con una bella ragazza? Ok? Abbini, paga, va! Ho vinto io e devo pagare io. Eh certo, si capisce. Appunto, hai vinto. Sei contento? Festeggi e paghi. C'è bracciacotte. Dai, partiti, io, partiti. Ora torno. Il tempo della rivincita e sono subito da te. No, vai. Ciao. È carina, eh? Adesso osservami al lavoro, vedrai altri due gettoni. E cade nella trappola. Buongiorno. Ciao. Ma state lavorando o rimorchiando? No, è che noi due... Noi due, che fai? Che tallati noi due? Stai in panchina? Sono io che faccio il gioco maschio. Ah, ho capito. Stiamo in servizio. Allora è meglio che io vada, eh? Sennò vi rovino la piazza. Ciao. Ciao. Non ti preoccupare che te disturbi mai. A me è questo che mi disturba. Siamo in servizio. Tiè, piangetone, va. Mettono dentro e giochiamo, che è meglio.